Nooo Arriva l'artiglieria su 82 Io da qua non mi muovo Ma si, parliamo di qui Guardate quelli che salgono, regà, quelli che salgono No, 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 no No, è proprio lardi L'artiglierino mi ha d'accordo No, infatti Quello là lo recuperano sul mercurio, ragazzi Dai Eh, anche a me mi recuperano sul mercurio Così pure a noi Vabbè No, no, no No, è proprio l'abbono